Chiedere al governo interventi immediati volti a favorire il settore delle costruzioni che in provincia di Salerno significa l'adeguamento e il rilancio della rete infrastrutturale in modo particolare delle strade di collegamento con il Cilento ma anche il potenziamento dell'alta velocità tra la stazione di Salerno con il resto del meridione d'Italia e poi ancora la realizzazione della terza corsia sull'autostrada Salerno Avellino, il completamento delle gallerie di Salerno Porta Ovest, l'ampliamento dell'aeroporto Salerno Costa d'Amalfi e il prolungamento della metropolitana. È la lista dei cantieri sui quali si soffermerà l'attenzione dei sindacati che per venerdì prossimo 15 novembre hanno convocato un presidio di protesta nel piazzale antistante la prefettura ad indirlo la filca Cisla Salerno che chiede di abbassare le tasse a lavoratori e pensionati che troppo spesso pagano di più e chiede misure concrete per la riapertura e il completamento delle opere incompiute nel comune capoluogo come il costruendo palazzetto dello sport. Noi non ci fermiamo dicono i sindacati riteniamo che l'edilizia sia volano dell'economia e che tutte le opere possano dare occupazione a centinaia di lavoratori attualmente disoccupati. Le nostre organizzazioni del settore delle costruzioni scenderanno in piazza venerdì 15 novembre in tutta Italia, in 100 piazze italiane per chiedere al governo, alle istituzioni locali lo sblocco delle grandi opere infrastrutturali. Scendiamo in piazza per sollecitare queste opere i cui fondi sono già a disposizione, sono bloccati essenzialmente per questioni burocratiche e per dare fiato all'economia locale, allo sviluppo locale e al settore delle costruzioni importante, vitale per l'economia locale chiediamo appunto con forza di rimuovere gli ostacoli che ne impediscono lo sviluppo. Con l'iniziativa del giorno 15 le organizzazioni sindacali del settore delle costruzioni chiedono alle istituzioni maggiore impegno nel contrasto delle forme di lavoro nero che pur esistono in una fase anche di crisi del settore e nel contrastare il lavoro nero contrastare anche il lavoro non sicuro, appunto un settore quello dell'edilizia segnato pesantemente dagli incidenti e dagli infortuni sul lavoro. Quindi no al lavoro nero e sì al lavoro sicuro. Questi sono gli obiettivi su cui il sindacato delle costruzioni sarà impegnato nelle prossime settimane.